Il direttorio del PD dà il via libera al sindaco Foti e alla sua idea di mini rimpasto e quanto emerso dopo il faccia a faccia di ieri con i rappresentanti dell'ufficio politico. Presente tutto il direttorio, i deputati Valentina Paris e Luigi Famiglietti, l'ex senatore Enzo De Luca e il presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, che sarebbe andata via prima, sembra, per motivi istituzionali. L'ufficio politico annuncia la fine del suo lavoro rispetto all'amministrazione comunale, auspicando una veloce convocazione del gruppo PD domani pomeriggio, a cui Foti dovrà illustrare le modalità di scelta dei nuovi assessori per dar vita al rimpasto. C'è quindi condivisione sul progetto e a questo punto anche sui nomi dell'Aggiunta, anche dell'area D'Amelio. Il senatore De Luca ribadisce il concetto dell'unione sulla stessa linea, anche se i dameliani, dopo aver fatto il loro dovere sugli assestamenti, stanno a guardare la prossima mossa del sindaco. Aspettiamo atti ufficiali, che per il momento non sono arrivati, commenta Gerardo Melillo. Siamo un gruppo onesto e granitico, non abbiamo chiesto poltrone. L'appuntamento è dunque per il prossimo Consiglio lunedì pomeriggio, per allora Foti, che a cinque giorni di tempo da statuto dovrà aver composto l'Aggiunta. Grazie. Grazie.